Dante è l'autore della catastrofe. Dante è l'autore che rappresenta con la sua opera, con la commedia, una condizione storica, una condizione sociale, una condizione morale precipitata nella catastrofe. Trentenne Dante inizia a partecipare alla vita politica di Firenze, ricopre cariche importanti, pubbliche, come quella di Priore. Dante è del partito dei Guelfi Bianchi, opposto in città al partito dei Guelfi Neri. Quando i neri prendono il potere, nel 1301, Dante è condannato all'esilio. E durante l'esilio è ospite di diverse famiglie nobili, in Romagna, e vagabonda, di corte in corte. Qual è la catastrofe che riguarda la storia di Dante? Innanzitutto il Dante della commedia, il Dante più importante, è un Dante che ha vissuto una catastrofe privata. La sua catastrofe privata è l'esperienza dell'esilio. Dobbiamo immaginare che Dante viveva a Firenze al momento dell'esilio, quando aveva circa 35 anni, nel pieno del successo. Aveva fatto la carriera politica ed era diventato Priore. Il Priore era nel sistema dei poteri fiorentini una specie di Presidente del Consiglio, sia pure a termine, sia pure condividendo con un'altra personalità la carica. Quindi aveva raggiunto il massimo successo politico possibile. Aveva impegnato le proprie energie nella scrittura letteraria ed aveva raggiunto anche in questo campo una fama straordinaria, diventando probabilmente l'autore più di successo nella Firenze del suo tempo. Poi a un certo punto la disgrazia politica lo caccia in esilio, lo costringe ad allontanarsi per sempre da Firenze, gli altri 20 anni di vita saranno tutti vissuti peregrinando, in giro per l'Italia, lontano dalla famiglia, con gli averi sequestrati, presto con una condanna a morte che grava sulla sua testa. Quindi Dante vive l'esperienza di passare dal massimo successo alla disgrazia più completa, dalla ricchezza e dalla gloria alla povertà e perfino all'inizio almeno all'anonimato. Ora dobbiamo ragionare sul fatto che questa condizione in qualche modo è dal punto di vista conoscitivo un privilegio, perché forse nessuno conosce meglio le contraddizioni di una società, i limiti di un'epoca storica come colui che è nel bisogno, come colui che non è tutelato, che non è garantito, come può accadere oggi in Italia per esempio agli immigrati. Dante era in qualche modo, nelle città che girava lontano da Firenze, in un'Italia ancora politicamente frammentata, una sorta di extracomunitario, se vogliamo usare questa brutta parola, o un immigrato. Era qualcuno che dovunque doveva difendere la propria dignità, che doveva rivendicare il proprio diritto ad esistere, ad avere di che vivere, eccetera. Questa condizione lo mette in un grande stato di sofferenza, ma anche gli permette di conoscere meglio il mondo. Lo illumina rispetto alla realtà del suo tempo e gli permette di conoscere attraverso la piccola catastrofe privata una catastrofe storica, una catastrofe sociale, una catastrofe morale che si sta svolgendo intorno a lui. Gli anni in cui Dante svolge la sua opera sono caratterizzati da profondissimi cambiamenti dell'organizzazione e della struttura della società. Uno dei cardini su cui ruotano questi cambiamenti è l'incremento demografico iniziato attorno all'anno 1000, che causa un forte aumento della domanda di prodotti alimentari e di manufatti. Nascono quindi nuove tecniche di coltivazione e si determina lo sviluppo dell'industria manifatturiera con il conseguente incremento del commercio e l'estensione delle sue vie a territori sempre più basti. All'interno dello spazio cittadino si intensificano sia la produzione artigianale che le attività bancarie. L'atmosfera piena di vita dei grandi centri attrae gli uomini dalle tenute agrarie. Non solo i contadini arrivano numerosi, anche la piccola nobiltà si concentra nei centri urbani impiegando le sue rendite in attività mercantili. Nei comuni italiani le nuove classi borghesi iniziano a sostituire l'aristocrazia nella gestione del potere, assumendo le redini della vita economica e politica. Allo sviluppo della civiltà dei comuni fa da sfondo la lotta fra impero e papato, entrambe istituzioni di carattere universale ed entrambe in profonda crisi. All'interno delle città la lotta politica tra i guelfi, sostenitori del papato, e i ghibellini, schierati con l'imperatore, si fa più aspra e assume la forma di una contesa tra le famiglie più potenti per il controllo dei governi locali. Più forte ancora è la percezione da parte di Dante negli anni dell'esilio di una catastrofe religiosa, di una catastrofe morale. Quella umanità che i valori del cristianesimo teneva unita nel rispetto di certe leggi, nel rispetto di certi comportamenti, era scossa ora nel riaprirsi degli scambi dei mercati tra il 200 e il 300, soprattutto nel 200, poi il 300 sarà un secolo di crisi, ma alla fine del 200, l'inizio del 300, quando Dante vive la sua esperienza politica e poi la stagione dell'esilio, questa umanità viveva ora in una situazione contraddittoria. Da una parte continuava a credere e a rispettare i valori della religione, i valori di una condotta morale, di una condotta etica, ma dall'altra doveva anche obbedire alla logica del guadagno, doveva obbedire a questo nuovo grande sistema di valori che Dante identifica nel maledetto fiorino, quello che gli chiama il maledetto fiore, cioè la moneta d'oro di Firenze che aveva reso, che aveva contribuito a rendere Firenze grande, famosa, potente, perché il fiorino era stato, era diventato una valuta centrale nel sistema europeo, cioè occidentale a quel tempo, dei cambi monetari e quindi degli scambi economici. Proprio nella necessità per il genere umano di obbedire a questa nuova logica, la logica del guadagno, Dante individua una ulteriore catastrofe, il rischio che l'umanità venga ulteriormente divisa al suo interno, che si aprano conflitti, che si apra una stagione di contrapposizioni basata sull'interesse economico. Dante si rende conto, ad esempio, che quel particolarismo politico costituito dalla civiltà comunale, le città-stato, Firenze era stata una delle più gloriose di queste, quelle città-stato che lui aveva cercato di difendere nella loro autonomia, per esempio dalle ingerenze del Papa Bonifacio VIII, questo particolarismo, queste città-stato, questa civiltà comunale hanno dei limiti fortissimi, perché disgregano l'unità umana, l'unità del genere umano, aprono una serie di conflitti localistici e impediscono uno sviluppo della civiltà armonioso e corretto. Dante, dicevo, è un autore imprevedibile, è un autore della catastrofe, ma è contemporaneamente, con questo vorrei concludere, anche l'autore del riscatto dell'umanità. È per noi forse incredibile, forse la cosa più imprevedibile, più stupefacente per noi moderni, ma Dante scrive il suo poema, scrive la commedia, nella fiducia, forse perfino nella certezza che scrivendo quell'opera l'umanità troverà la strada della salvezza. Dante confida che illuminare il mondo sulle sue storture, sui suoi vizi, sui suoi errori, mostrare al mondo la strada della redenzione e della salvezza avrà un significato irreversibile. crede che quello che sta facendo, con uno sforzo disumano negli anni dell'esilio, quest'opera che gli ha veramente rubato la vita, anno dopo anno, sarà un'opera che consentirà al genere umano di ritrovare la sua strada, così come la ritrova Dante nel corso del poema. È chiaro che questa è un'utopia, è chiaro che questo appare ai nostri occhi perfino un peccato ingenuo di orgoglio, ma io credo che non si possa scommettere su nulla di più bello e di più importante oggi che questo, un giovane, molti giovani che come Dante credano di nuovo che il loro agire personale, quello che loro faranno nella vita, possa di nuovo cambiare il corso del genere.